I pazienti diabetici di Venafro e dell'Interland non possono curarsi, non adeguatamente. Già in passato vi abbiamo detto della presenza a singhiozzo di un medico specialista nel locale ospedale di comunità. Il problema sembrava risolto, ma al Santissimo Rosario, ormai da mesi, si attende il nuovo diabetologo. Non si contano le visite saltate, ma da inizio anno c'è un nuovo problema. Le persone affette da diabete di tipo 1, quello più grave, grazie a un dispositivo che si applica sulla pelle, monitorano costantemente la glicemia. È uno strumento salvavita, fondamentale per tenere sotto controllo la malattia. Ha una durata di 14 giorni. Ogni mese due nuovi sensori vanno ritirati presso la farmacia di quell'ospedale. Da questo mese i pazienti non riescono a ritirarlo. I presidi ci sono, ma sono diversi. L'ASREM, infatti, attraverso un bando, ha cambiato azienda fornitrice e prodotto. Per poter ritirare i nuovi dispositivi, necessario presentare un nuovo piano terapeutico redatto dal diabetologo. Solo che, come dicevamo prima, il diabetologo al Santissimo Rosario non c'è. Ci sono invece i pazienti, senza sensore da giorni, che non possono più controllarsi e non sanno quando potranno tornare a farlo. Ci siamo rivolti all'ospedale. Dalla farmacia interna ci informano che alcuni nuovi presidi li stanno distribuendo perché alcuni malati sono riusciti ad avere il nuovo piano terapeutico da altri ospedali. Per saperne di più, stamane abbiamo provato a contattare l'ambulatorio di diabetologia del Veneziale di Isernia. Dopo un'attesa al centralino di 17 minuti, abbiamo rinunciato. Lunedì 22 gennaio, un diabetologo dovrebbe prendere servizio all'ospedale di Venafro. A questo punto, il condizionale è d'obbligo. Intanto, decine di malati sono vittime di un sistema sanitario bloccato dalla burocrazia che, nel caso di specie, sembra aver perso di vista la sua mission. Curare il malato, anzi, prima ancora, averne cura.